L'operazione Vesuvio condotta dai carabinieri ha portato all'arresto di 24 persone, accusate a vario titolo di traffico di droga, commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. La direzione distrettuale antimafia aveva avviato l'inchiesta già da diversi mesi. Una delle roccaforti dei clan è risultata alla Dispoli, dove sono stati operati diversi arresti che hanno scosso non poco la cittadina del litorale. La città è stata scossa in questi giorni da questa notizia degli arresti relativi alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Il sindaco cosa dice al riguardo? Da una parte la notizia crea allarme, o meglio conferma anche un allarme che già era così nei nostri pensieri, nel senso che la criminalità organizzata da anni ha esteso il suo potere, le sue ramificazioni in tutto il territorio a sud di Roma. A Roma stessa ci sono molti problemi e la preoccupazione è che si salisse anche a nord di Roma. Da contatti e da colloqui che avevamo avuto in passato sia con la finanza che con i carabinieri, sapevamo che questo territorio era molto attentamente monitorato e attenzionato, come si dice in gergo. E quindi probabilmente questo è quello che ha gli arresti e sono il risultato di queste indagini molto profonde e molto approfondite che vengono svolte da mesi nel nostro territorio. Da quello che abbiamo potuto sapere, anche dalle forze dell'ordine, non si tratta di una ramificazione nel territorio con il tentativo di impossessarsi di gangli vitali, diciamo della vita amministrativa e civile della nostra città. Si tratta di considerare questo territorio un po' come il deposito e il centro di smistamento sia di droga che di altro materiale. Però è comunque un campanello d'allarme fortissimo perché è chiaro che il rischio c'è sempre, insomma, che la malavita tenda a occupare spazi non ancora occupati da questo tipo di attività. Sindaco, lei diverso tempo fa si era rivolto, immaginiamo, al Ministero per cercare un potenziamento delle forze dell'ordine qui alla Dispoli? Sì, a parte i contatti verbali, a parte le continue raccomandazioni ai vari punti dove si attua il controllo del territorio, noi avevamo scritto una lettera il 26 ottobre 2010 al Ministro degli Interni Maroni e al Prefetto di Roma Pecoraro sottolineando, leggo alcune frasi, il fatto che siamo passati da 19.000 a 41.000 abitanti praticamente in 15 anni. C'è una presenza di cittadini di altre nazioni che si attesta intorno al 18% e facevamo due considerazioni e due proposte anche. La prima è che per quanto riguarda il posto di polizia eravamo pronti a mettere a disposizione un locale completamente nuovo di 400 metri quadri nella zona artigianale. La seconda è che chiedevamo con forza l'aumento dell'organico dei carabinieri perché siamo praticamente allo stesso numero di carabinieri di 15 anni fa. La risposta, tra l'altro, è venuta con grande ritardo dalla Prefettura di Roma, è venuta il 20 giugno 2011. Di fatto, leggo, le forze dell'ordine hanno reso noto che l'istituzione di un presidio di polizia non rientra tra i prossimi obiettivi, questo nonostante, ripeto, non avessimo offerto gratuitamente un locale. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, cioè i carabinieri, si ritiene in questa lettera che la presenza dell'arma locale è adeguata alle esigenze di questo territorio. Insomma, quello che sia accaduto significa, da una parte, che c'è stato un lavoro ottimo delle forze dell'ordine, ma proprio in linea di prevenzione bisogna aumentare il numero delle ligni. Ecco, Sindaco, lei ritiene che proprio questa sottovalutazione da parte degli enti grandi come la Prefettura possa aver favorito l'insediarsi di queste, chiamiamole cellule comunque, della criminalità? Ma qui è difficile, insomma, avere delle certezze perché poi noi sappiamo notizia dai giornali, sappiamo qualche notizia in più anche da contatti diretti. Devo dire che il problema della malavita organizzata, abbiamo visto che in Italia è un problema serissimo, anche laddove le forze dell'ordine sono molto presenti, molto spesso riescono a dare colpi molto importanti, però non riescono a prevenire del tutto il fenomeno. È noto che dopo la Campania e dopo Napoli il secondo luogo dove c'è una maggiore presenza di criminalità organizzata è Milano, dove girano i soldi arriva la mafia, arriva l'andrangheta. Quindi è difficile dire se un numero maggiore di forze dell'ordine avrebbe potuto evitare. Una cosa è certa, che da una parte questo che è accaduto dimostra che le forze dell'ordine sono attente, controllano e monitorano quello che accade nel territorio e di questo siamo soddisfatti. Poi c'è un problema di quotidiano controllo del territorio, al di là della criminalità organizzata, parliamo di piccoli reati, di furti, poi i reati sono sempre gravi, anche quando vedersi delle persone dentro casa che rubano e magari mentre si è svegli oppure essere minacciati dentro casa non è un piccolo reato, è un gravissimo reato. Su quel versante penso che una maggiore presenza delle forze dell'ordine, un numero maggiore, potrebbe ottenere maggiori risultati. Noi come è noto abbiamo iniziato un'operazione di monitoraggio e di videosorveglianza del territorio con 25 telecamere, diventeranno 50 queste videocamere, però sappiamo che questo è uno degli strumenti. Abbiamo sentito giorni fa una serie di reati che sono stati identificati, i responsabili di questi reati, parlo delle aggressioni di persone che con la macchina hanno investito altre volontariamente, sono stati tutti identificati attraverso telecamere che erano in quella zona. Certo, quindi le telecamere, che saranno 50 tra pochi mesi in tutta la Dispoli, sono uno strumento. Non sono sufficienti, però sono uno strumento. Oltre questo c'è stata l'apertura della nuova caserma della Guardia di Finanza, che sulla grande criminalità sicuramente tiene occhi molto attenti. Noi torneremo alla carica con il nuovo ministro degli interni, perché la Dispoli, che è diventata la decima città della provincia di Roma, lo dice il rapporto annuale della provincia, è un volume pubblicato in questi giorni, eravamo tredicesimi due anni fa, eravamo ventiquattresimi quindici anni fa, ora siamo la decima città del Lazio, la decima città della provincia di Roma. non può essere che ci si risponda che non ci può essere un posto di polizia.